Con oggi sono esattamente 10 anni, 6 mesi e 16 giorni che stiamo insieme. Sapete cos'è il Kintsugi? E' un'antica tecnica giapponese, letteralmente vuol dire riparare con l'oro. Quando una stoviglia si rompe, con l'oro fuso si ripara. Questa tecnica conferisce bellezza e un valore ancora più alto a ciò che prima era rotto, inutile. Questo fondamentalmente sono Alessia e Tommaso. La capacità di rendere più bella ogni cosa, ricca di valore, con un significato in più. Credo che basti guardare tutti noi. L'elemento che ci unisce, come tanti frammenti, tutti diversi, sono loro. E sono convinto che forse ci hanno reso tutti anche un po' migliori. Anche solo con il semplice fatto di sapere che nelle nostre vite sono delle persone come il loro. Anche solo con il semplice, come tanti frammenti, come tanti frammenti, come tanti frammenti, come tanti frammenti. E in questo periodo abbiamo fatto di tutto insieme. Da pere, caffè e tutto a Bratislava, a mangiare pane nero e salmone su una scogliere delle parole. Ti prometto che sarai sempre la persona con cui vorrò condividere ogni singola esperienza e avventura. Anche quella in cui non sei lì fisicamente. Mi hai conosciuta che ero arrabbiata, ferita e cinica. Ma da quando sto con te hai imparato cosa vuol dire amare e di un amore puro ed incondizionato. Tu sei la mia casa. Mi fai sentire al sicuro, libera e amata. Non so cosa ci prospetterà il futuro, ma fin quando non smetterai di guardarmi come mi guardi adesso, so che tutto andrà bene. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.